L'ultimo esempio di scarso funzionamento della cosiddetta cosa pubblica arriva da Mesagne, dove da un anno c'è una struttura residenziale per pazienti autistici che è pronta, attrezzata con ogni strumentazione necessaria, ma non può entrare in funzione a causa dei ritardi della Regione Puglia. Parliamo della Domus Ada, che è costata oltre un milione di euro e che ha già ricevuto da tempo l'accreditamento regionale ed ha anche provveduto ad assumere le 14 unità ormai da settembre del 2023, una scelta dettata proprio da quanto richiesto dagli uffici regionali. A ciò si aggiunge anche l'attesa delle famiglie e dei pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico che contavano di risolvere i propri problemi proprio con l'entrata in funzione della Domus Ada. I fondi stanziati al sostegno di tale iniziativa però non sono mai arrivati, nonostante a livello regionale sia stato stanziato di recente un altro milione di euro da destinare alle strutture già autorizzate all'esercizio e dotate dell'accreditamento per il 2023, esattamente come la struttura mesagnese, che ha impiegato ben sette anni per giungere al completamento dell'iter burocratico e all'allestimento dei locali. Da qui una pressante richiesta rivolta alla Regione Puglia affinché qualcuno si faccia carico della soluzione del problema, visto che c'è in gioco il futuro di tanta gente. Non è ammissibile infatti che la burocrazia ancora una volta sia la causa dei ritardi così gravi e che tali penalizzazioni si verifichino in una provincia già così duramente colpita dalle carenze della sanità pubblica.